Siamo qui con il presidente del mondo sport, Cerdo Mattara. Presidente, altra buona prestazione a discapito del risultato, complice ovviamente l'espulsione di Tonon, che ha direzionato la gara nella direzione del Neapolis. Purtroppo devo fare come sempre complimenti a tutti i ragazzi, allo staff che lavorano molto bene, lavorano durante la settimana duramente. Per la partita sono contentissimo per la prestazione, aggiungiamo che abbiamo avuto il coraggio di far giocare da titolare in un ruolo delicato come il difensore centrale, un ragazzo classe 92, abbiamo chiesto una deroga, un ragazzino di 15 anni ha giocato a titolare, questo è il nostro spirito, noi puntiamo sui giovani, ma i giovani non intendiamo solo i giovani di 15 anni, intendiamo anche i giovani che da poco finiscono di essere under, intendiamo i giovani 94, 95, 96, 97, che sono sempre giovani e che purtroppo di cose sono stati messi da parte da altre squadre. Noi continueremo sempre a lavorare con tanta dignità, i ragazzi si allenano costantemente con massimo impegno, purtroppo quest'anno è partito male, ma dobbiamo cercare di invertire un po' con la rotta. Io faccio un grosso in bocca al lupro, soprattutto al nostro ragazzo Antonio Di Costanzio, che purtroppo per l'ennesima volta ha subito un altro infortunio e quindi ci auguriamo che Antonio possa guarire quanto prima, ma al di là del calcio, perché è un ragazzo di sani principi, è proprio un ragazzo d'oro e spero che quanto prima possa ritornare a stare nella migliore forma possibile. A dicembre sono arrivati molti acquisti, abbiamo visto anche i titolari, tra l'altro qualcuno. Con gli assenti di oggi, questo mondo sport, può cercare l'impresa? Ma noi ci proviamo, noi cerchiamo di fare il meglio possibile. Noi, ripeto, noi siamo una squadra giovane, puntiamo sui giovani e lo dimostriamo. Lo dimostriamo in campo, puntiamo sul prodotto locale. Io credo che tanti di questi ragazzi che giocano ora in promozione potrebbero giocare tranquillamente in eccellenza. Io mi dispiace vedere gli under provenienti dalla terraferma per un campionato che credo che sia un campionato, non voglio dire di livello basso, ma che sia un campionato sufficiente. Quindi tanti di questi ragazzi potrebbero giocare, è un peccato, è un grosso peccato che tante società si rivolgono sempre alla terraferma per i calciatori. Grazie.